Ciao a tutti, benvenuti in questo video, il primo che sto registrando. Io vorrei presentarmi, mi chiamo Simona e sto facendo questo video perché da un po' di tempo, a questa parte, circa poco più di un anno, ho scoperto il mondo dell'ASMR che, devo dire, mi ha letteralmente cambiato la vita. Non avrei mai immaginato che un giorno mi sarei ritrovata qui a registrare questo video, però la verità è che l'ASMR per me è diventata una vera e propria passione. Amo tantissimo guardare i video per rilassarmi ovviamente, per dormire meglio, però in generale proprio è un mondo che mi affascina tantissimo. Le persone che registrano questi video si chiamano appunto ASMR Artist e per me non c'è parola e termine più azzeccato perché a mio avviso le persone che registrano questi video sono dei veri e propri artisti. Infatti io sono qui in maniera molto umile perché non so se sarò mai alla loro altezza, però non lo so, è da un po' di tempo che stavo pensando di provare a girare qualche video e per cui eccomi qui. Quanto meno voglio provarci. Penso che se con i miei video riuscirò a far rilassare anche solo una persona, sarò felicissima. Oggi ho deciso di presentarmi e ho preparato tre cose, tre oggetti per farmi conoscere un po' meglio. Per cui vorrei iniziare dal primo che ora vi faccio vedere. Il primo oggetto che ho scelto è il cofanetto della prima stagione di Scraps. Ecco qua. Ho scelto questo cofanetto perché io ho l'intera collezione della serie e sono un'appassionata di serie televisive, nel senso che mi piacciono tanto, ne guardo un po'. Ma Scraps è in assoluto la mia preferita. Ho anche un tatuaggio dedicato a questa serie e a tutto quello che mi ha lasciato ed è il mio preferito tra tutti quelli che ho. Per mi ha toccato tantissimo, mi ha lasciato tantissime emozioni e mi rappresenta tanto, per cui ho scelto questo cofanetto. Diciamo che questo è un video molto introduttivo e quindi si Scraps nel cuore assolutamente sulla pelle, letteralmente. Il secondo oggetto che ho preparato è questo libro. Mangia, prega, ama. Questo libro è bellissimo, sono sicura che lo conoscerete, conoscerete la storia o magari avete visto il film. Allora, io penso che questa storia sia una delle storie più belle mai raccontata. Per chi non lo conoscesse, magari dico due parole, è la storia della vera Elizabeth Gilbert, la scrittrice e autrice, che racconta in prima persona questa sua avventura che ha vissuto praticamente in seguito al fallimento del suo matrimonio per sua scelta. Sceglie di partire per un viaggio in tre paesi diversi, Italia, India e Indonesia e ogni parola del titolo rappresenta un'esperienza significativa che lei vive in uno di questi paesi. Lei parte per questo viaggio alla ricerca di se stessa, per cercare di capire cosa vuole dalla vita, da se stessa, perché era in un momento di grande confusione e si era persa e per ritrovarsi ha scelto di intraprendere questo viaggio, dove va prima in Italia alla scoperta del buon cibo. Quindi lei nei quattro mesi in cui sta in Italia gode del buon cibo appunto, impara a coccolarsi tramite il cibo, a nutrirsi, a socializzare, a stare in mezzo alle persone capendo l'importanza che in un paese come l'Italia il cibo ha. Successivamente va in India alla ricerca della sua spiritualità, cerca di ricollegarsi, di ritrovare un po' Dio e soprattutto se stessa tramite Dio, tramite la spiritualità. Infine va in Indonesia dove trova anche l'amore diciamo che prosegue un po' il suo cammino spirituale e alla fine trova l'amore e quando lei è in Indonesia dice una frase per me molto significativa a quello che è poi quella che è la persona che lei trova lì. Lei aveva fatto questo percorso estremamente complesso questo lavoro su se stessa e quando incontra questo uomo lei fa molta fatica a lasciarsi andare e a un certo punto lei gli dice io non ho bisogno di amare te per provare che amo me stessa e quella frase quando l'ho letta, quando l'ho sentita anche guardando il film più e più volte mi ha toccato tantissimo perché non lo so l'ho sentita molto mia questo libro è veramente bello, veramente toccante, profondo e apre tanto la mente quindi ho scelto di raccontarmi tramite questa storia e l'ultimo oggetto ma non meno importante anzi forse il più importante di tutti è questa piccola piccola bandierina della Svensia che ho comprato quando sono stata a Stoccolma un anno fa il viaggio a Stoccolma mi ha molto più che cambiata mi ha chiarito molto le idee sulla mia vita e sul mio futuro, su quello che voglio e mi piacerebbe tantissimo un giorno poter andare a vivere in Svezia perché sono rimasta molto affascinata dalla mentalità e dal modo di vivere che in generale c'è nei paesi del nord Europa e mi piacerebbe tanto poter imparare la lingua ed è una cosa che farò a breve infatti ho comprato un manuale per poter iniziare ad approcciarmi allo svedese che non è una lingua facile soprattutto per quanto riguarda la pronuncia ma mi piace tanto e trovo che sia estremamente affascinante in generale è affascinante per me l'idea di imparare una nuova lingua e poter comunicare con le persone del posto nella loro lingua e poi sicuramente se un giorno vorrò andare a vivere lì è importante comunque poter sapere la lingua del posto e in realtà c'è un'altra cosa che riguarda in un certo senso la Svezia che fa parte della mia vita da poco ma per ora non lo dirò ho in mente un video da fare in cui parlare anche di questa cosa che è successa che mi rende molto felice e c'entra appunto in parte con la Svezia per cui sì questo è quanto non ho fatto sentire tanti suoni perché appunto devo un attimo organizzarmi e capire però volevo prima di fare un video diretto ecco subito diciamo prima di iniziare direttamente volevo presentarmi e non lo so come andrà questa avventura della SMR però ho deciso di provarci perché veramente mi appassiona tantissimo farò dei video nei prossimi giorni un video appunto ce l'ho già in mente c'entra con quello che ho detto della Svezia poi a me piacciono tantissimo i roleplay quindi ho in mente di fare qualche roleplay e insomma poi vedrò man mano niente questo è quanto io vi saluto e se vi va ci vedremo al prossimo video che pubblicherò vi mando un bacio e a presto vi mando un bacio